Madame, veramente, in questo mondo, conciossi a cosa quando fosse che il quadro non è tutto. Scaldrano, così, l'eroglio del gioco di venti, a voi, sterre, e si dico che c'è il miserone, dove ti fa parte? E lasciando che vada, e lì non merda che di lui ci pensiate. Il scegliato, il dottor, mi trovi. E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete, nella prima, nell'ultima. Guardate. Questo lonticcio libro è tutto un pieno dei nomi di sue penne. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donne strempese. Adamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il quadro mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia, si c'entro e paranta. In Albania, due c'entro e per tu. Sento in Francia e Turchia, non la tu non va. Sento in Francia e Turchia, non la tu non va. Sento in Francia e Turchia, non la tu non va. Ma mai in Spagna, mai in Spagna, mai in Spagna. Sono già un mille e tre. Un mille e tre. Un mille e tre. Sento in Francia e Turchia, non la tu non va. Nella buona, è l'alzata di odore. 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 La vicina, 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 la vicina. E ogni ovvero perciosa, e ogni ovvero perciosa, e ogni ovvero perciosa. Sắp stayed nel hoarder, fa la propisa per il piacere di porla in risca la missione denominante e la giorni prigia dove non si rica se si arriva se sia brutta se sia bella se sia rica brutta se sia bella perché torri la gommella voi sapete quel che fa 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 voi che fa che fa che fa Vai sapere che c'è qua